Il riso corso del 118 I vigili del fuoco di Rivarola Ivrea I carabinieri e la polizia locale L'uomo è rimasto ferito al braccio e al volto E dopo essere stato stabilizzato E stato trasportato all'ospedale di Ivrea in ambulanza Non è in pericolo di vita E' un cazzo gli occhiali E' un cazzo gli occhiali E' un cazzo E' un favo E' un cazzo Con la mano Ma boh ragazzi Mi piacere A questo punto vi ricordo C'è il servato del ruolo Grazie Grazie